L'andrologia è la branca dell'urologia che si occupa delle malattie dell'apparato genitale maschile. Per semplicità possiamo dire che sia il corrispettivo maschile della ginecologia. Quindi l'andrologia si occupa delle malattie della prostata, del pene, dei testicoli e dell'uretra, in particolare le disfunzioni sessuali, le malattie della sfera riproduttiva, i tumori genitali, le patologie dell'uretra, la disforia di genere, le ricostruzioni genitali dopo amputazione per tumore o per trauma.